Benvenuti nel mondo degli orologi Seckfort. Seckfort Watches è un marchio di orologi britannico fondato nel 2015 da Kuchar Suara. Gli orologi Seckfort sono noti per la loro attenzione ai dettagli e alla precisione, con ogni orologio assemblato in Svizzera. Il marchio trae ispirazione dalla tradizione orologera svizzera, notoriamente sinonimo di qualità e precisione. Inoltre, Seckfort offre anche una linea di orologi in edizione limitata, caratterizzati da design unici e particolari. Questi orologi sono pensati per i collezionisti e gli appassionati di orologi, che desiderano possedere un pezzo unico e speciale.